allora signori approfitto questa di queste belle immagini per poter dare un consiglio sull'amore e sull'amicizia signore amore amicizia non è ricevere più che altro dare donarsi non so se ci avete presente la frase che diceva kennedy non è tanto importante quello che il tuo paese fa per te ma quello che tu fai per il tuo paese è stessa cosa pure con l'amicizia e con l'amore signore quando state con qualcuno qualcuno oppure con gli amici non è tanto quello di che il vostro amico la vostra finanziaria il finanziario rifare voi ma quello che voi se riuscite a fare spontaneamente voi a lui non bisogna pretendere per forza qualche cosa agli altri a meno che non sia proprio necessario c'è una cosa è bello proprio donarsi c'è quello è proprio l'amore accontentarsi di quello che si riesce a trovare e gioire con quello sono belli 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 cioè questo volevo dare come consiglio perché pure nella povertà nella ricchezza quello che si riesce a dare pure quando si può fare un regalo cioè è quello che si deve donare non tanto quello si deve chiedere vabbè stacchiamo l'amore è dare non è ricevere